Fortnite con Punisher Saluta Ragazzi The Punisher è diventato il mio moderatore Quindi farà una dedica Scrivimelo Com'è essere un moderatore del canale di Monkey Skin Eeeh Troppo figo Sembra essere il moderatore di Ciccio Gamer Ah quello Ecco Una Sei colpi Ok già una spettatora Bella Iscriviti E lascia Cioè iscriviti Lascia like E oppure se si no Cazzo Sta qualcuno col bar Eccoli infatti Sto di fronte a me Lo faccio dopo guarda Sì sì fallo dopo Stai tranquillo Quando ti dico io Quando arrivi in lì a banare la gente Che mi dà fastidio Comunque di fronte a noi Dove In realtà non li vedo Stanno costruendo Oh non li vedo Ah A uno gli ho tolto 78 No fra fra non sparare a quello Sta uno di qui Stanno da me Quello gli ho tolto 78 blu Non ti viene a fianco a me Noccato Vuoi pushare? Sì Fatti Oh madonna troia Da me Bro da me Aia Elfing Aia capiamo bro aia fra mi sto curando eh no franco si parla proprio da una mano io ho uno di vita se vedi da me ti lasci in linee finita me fra finita me facciamo due scudoni tutti e due ci do una bella tieni ma io ho cinque di vita eh aspetta fammi tirare a meno più bella si 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 devi muovere fai assona a me non ti vuole dire pro help si arrivo bro dammi due secondi eh io l'ho persa quello ma tua mamma no bra siamo morti bra il massimo io sono morto eh bra che palle io li ho dimostri qui ovviamente guardo mi fanno scelera io li ho dimostri ma io sono qua nascosto dovrei perdire nascosto no frasso no eh no dai dietro eh muoio frasso tranquillo che palle però quanti li hai fatto è uno a me vedi che non sta in live cosa vedi che a me non mi dici che sei da ah ora si qualcuno due aspettatori ciao fabio ciao fabio lì si si è Fabio Lico si abbassavo un giro si muovito tre giorni che mi tengo di back ma siamo in due come sai uno o io e l'altro mannarelli o palmetto? palmetto oh raga che partite che abbiamo fatto prima però io so che io e quella là non mi modificavo perché stavi tu in mezzo e io mi sono messo a lato sinceramente e si ma non mi ha modificato non so perché no beh anche a me succede si bugga cerchi a me a te si dovrebbe bagare B tipo ah si credo ci sono palmetto allora ah bella pompa raga io vi dico che se io e Punisher giochiamo male perché da quando hanno messo i mostri non riusciamo a giocare perché danno un botto di fastidio se non stavano i mostri noi prima facevamo sempre vittoria reale quattro aspettatori ammai ciao mattia vuoi giocare? vedi che sta un botto di delay alla live? è un botto di delay alla live sai meno che cos'è si lo so cos'è il ritardo ma è normale è normalissimo ma lo sai che lo puoi togliere? non so come si va ma vabbè ma no che era il computer mi ti f***a aspetta dopo lo faccio io sto giocando con guy a dopo ok ciao ma il fucile è pesante ma il fucile è pesante quali sono? il pompa no esiste praticamente la missione dice che bisogna farlo con il fucile a pompa che è il pompa del nonno fucile tattico il fucile tattico il tattico è il fucile pesante livi livi si perchè quella la è per calipero pesante tattico altra roba se la trovi se la trovi lo puoi dare che cosa? chiedi boh devo fare la sfida non se devo farla su eh si ma è a fase bravi vieni da mettere ancora la fase del tattico se non l'hai fatta beh però non so ma intanto non l'ho trovata eh qua se lo trovi per questo no non te lo do buona lo so se lo trovo te lo so oh ma già ho una fancia mi sa come l'ho sentita ti hanno cecchinato ti hanno cecchinato ti hanno cecchinato no? che? ma quando io sto posto? prendi volta che c'è a dove sta? è male che avevo visto sto fudore qua ho capito dove fra siamo in un panino abbiamo altra gente devo curare io però si curti curti mamma taffè ecco buttati pillazzi giochiamo insieme dopo simone e simone che dipende a che ora Fabio se vieni da me ti do una distraglietta ce l'ho al pinovato ah vabbè mi devi dare so tanto a tutti da me da me da me Fabio 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 Sì siamo questo buono no nel senso dopo che ho fatto la sfida va bene intanto schermi in tutto questo oddio oddio oh oh porca madonna però sono le bende qua scappa 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 ce li ho ce li ho mi spagli una benda vieni no no spagli la cesta spagli la cesta spagli la cesta vabbè ma tu sei coglione veramente però era a pianto la cesta era qui era qui non vedevi qualcosa frescente è qui mi sei daltonico eh infatti non c'è una modalità d'altonismo solo per vedere mille persone ho uno slurpetto vieni che ci vuoi fa che ci vuoi fa o sei gay sei gay? si hai venuto dalla nascia no cane porca puttana trottola ho sparato per sbaglio simone venda ti scrivi il tuo id ho già satirato la like e siamo arrivati a otto la like tra cui uno mio di like wow un like mi fa sentito per portare il cionale e aveva uno che sparava con la pistola è per fare la sfida è per fare la sfida io ne ho filato una e mi volo infenditura no ce l'hai la mitraia? ok il minico te l'ho inviata simo098 allora mo dammi due minuti e te l'accetto Fabio dietro di te avresti un po' lo zonco buonasera ti ha posto? non ci prendi la cento e andiamocelo adesso forno aspetta fatto te l'ho accettata dopo giocheremo con ogni iscritto ok? ok non fa niente se quanto è quello? 2 ma niente se cioè se mi sa che gioca da simone tu sei quello che per caso giochi da switch? o qui mamma te mi ha ratto il cazzo bravo ah si lui è quello che gioca da questo qui gioca da cosa? ma porca madonna è ratto? sono io che cazzo mi spari? porca madonna aia 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 vaffanciulo tutto ho riuscidino ma non ti ricordi che ti avevo fatto arrivare un'anta scritti? si che mi ricordo bro mi ricordo e come aia addio oh comunque la minica è servita fra un po' arrivo è una mitraglietta per me boh non lo so se non c'è mi prendo gli shieldini aspetta che sto vedendo una cosa amici di epic online dai stavo vedendo una cosa ma stai online un scudone ehm simone stai pure in live stai in live cioè stai in online cazzo tu cabio arrivo no che stavo ero impegnato a trollare una persona ah ma tu sei sciamo che io non cazzo le vende le puoi prendere? eh si si ninja che quando ha gente che sta gente fra gente dietro di noi mi vengo a prendere col cardio ma io sono qua fra andiamo veloce fra segui corri Fabio corri oddio sali sali no pro pro ma porca puttana da quando atterri ti fai un fortino di 90 gradi e vedi che io sto in ferimento addio vito ti trovo è la madonna però sono scarsi questi certo di vincere ehm simone io non ti trovo tra gli amici invitami tu in caso se mi trovi ah un'altra cosa ce le hai almeno le cuffie ok le cuffie ce le hai ah ecco mi è arrivata ora la richiesta fatto te l'ho accettato ora ti invito ma è forte ma è forte eh oh gioca da Nintendo Switch non lo so aspetta com'è che si chiamava Simo Simo amici di Epic vediamo ehm ci sono due livelli su blocco ehm vampiri pipistretti non ci trovo aspetta Simo mi dicci come ti chiami per favore ah Simo 098 te la mando io ma devi vedere ancora da Epic si chiami un altro modo ehm Simo 098 098 098 ha le cuffie cine ehm ehm Simo se mi trovi tra gli amici mi inviti perchè non so perchè non ti trovo vedo vedo se ne la mando io le ho richiesta Simo 098 mi chiam ma non è che quelli di di corsa non possono giocare con quelli di play diventando Switch ah no so Vito c'è Simo vedi se mi inviti tu? io sto vedendo tra gli amici di Epic lo trovo c'è c'è Simo invitami tu al gruppo vediamo perchè io non ci trovo tra gli amici di Epic ma non ci trovo manco io scusa prova a riscrivere il mio nome da Epic e inviammi la richiesta io gli ho inviato la richiesta vedi se l'accetta ah se vedi una che si chiama The Punisher 84 accettala che è il tizio che sta con me in lobby io a me me l'ha accettata eccolo eccolo bella Simo non sento Simo che palle eccomi ciao Simo ciao 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 ti senti lega comunque ti senti lega comunque non so perchè ma che ti torna ti torna ti torna sei 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 più questo vedete è franzo ragazzi raga ma ci sentite raga raga abbandono un secondo del gruppo vi invito a tutti e due ad entrate pancere crash invita Vito puoi invitare anche a Simo puoi invitare a Simo che io non lo trovo ancora non lo trovo dagli amici ma Simo aspetta che dio madonna Simo visto che il gruppo a noi è libero se magari ti unisci non ti trovo ah ecco ti ho fatto invitato nel gruppo fatto ti ho invitato Simo ok mi sa che Simo ho spento la prima perché non lo trovo Simo si ma ho spento aspetta ti ho scritto un commento aspetta aspetta adesso aspetta 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 che sto vedendo una cosa Simo entra ti ho invitato ah finalmente cani quanto ne hai Simo 12 no io 11 aspetta 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 Grazie. 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 Beh, ovviamente non è che sono il pro. Vabbè, non ti preoccupare, non me ne fregano. Bra. A me basta che ti diverti e giochi con me. Che cazzo. Vai, rag, vai! Vai che sono atterrato lontano. Vai, raga. Bello! Ti piace stare al telefono, eh? Eh, oh, sto messaggiando che sabato devo uscire. Ah, ok, tanto ho un po' lo scarso, non a posto. Sì, sto messo meglio di tutti. Io c'ho, sai che cosa? Un cazzo. Tu cazzo. No, non mi direi che sei di Bari. No, non mi direi che sei di Bari. Ma che di Bari si entra? Di Napoli. No. 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 Ma un pregoia. Simo, se l'hai un'arma. Sì, sì, sì. Sì, sì. Raga, io ho un M Blue, lo vuole. No, un M Blue. Io. Io. No, lo da Simo perché Simo è simpatico. Venite qua. Grazie. Se lo prende prima è santo. Perchè il lago? Evoli, il coglione. Beh, Prens. Tieni Simo. E' ciù. Chi se l'hai preso? Se vuoi si muore ho un Famas se vuoi. Un Famas. Un Famas, sì. Che credi? Sei di Roma? Sì. Sì. Ok. Tieni, sì. Sì, ma perché ti sento un po' strano? Sei vicino un po' al microfono. Raga, toggete la life, per favore. C'è ragione. Vizio. Silenzio, raga. Silenzio. Hi. La life. Simo. Eh, ma dov'era il posto a ballare? Qua. Anche ce l'ho. Aspetta. Sì. Tre. Due. Sette, sette, sette. Tre. Due. Uno. Via. Nessuno di voi ha questo, raga. Guarda. Quale? Questo. Tu. Anche questo. Aspetta. Nessuno di voi ha questo, però. Nessuno al mondo ha questo. Eh, no, io non ce l'ho a quello. Io ho questo. No, questo è bello. No, questo è bello. Quello, via, però. Ma raga, andiamo a prendere. Aspetta. Alla deriva, tieni. Raga, ma io vi voglio un sacco bene. Che voi lasciate fa un po' blu sopra. Basta. Oh, lasciatemi. Oh, vito, levati, ma. Eh, ti puoi sticchiare, eh. Ti piace fumare? Ecco. Oh, porca, madonna, trottola, porca. Beh, io devo andare in safe. Eh, io direi di cercare una porta tuttana di fenditura. Ah, fenditura da me! Un cazzo da terra. Oh, sì, ma mai qualche fincippata? Ehm. No, a parte Starter proprio. Cosa? Cosa? Eh, ho preso il deltaplano fra swing. Cosa? Eh, ho preso il deltaplano fra swing. Però adesso non ce l'ho messo un altro. Ah, bello. No, io ho skin, ho soltanto skin shoppate. Picconi e deltaplani no. Eh, raga, qua stanno. Andiamo, venite. Dai. Dai, dai. Vè, vè, muo, vè. Mmm. No cazzo. Vieni. Tanta gente. Non ce l'ho. È finito con la terra. Bravo. Oh, porca madonna. Ahia, canne dio, porco. Oh, ma che c'hanno l'ebola? Oh, ma che c'hanno l'ebola? Oh, cazzo. Che penso io? Oh, ma avete rotte coglioni? Mogu scatto la mano. Oh, cane morgo. Che dove per cagare se è morto. Ah, fammocca. Venite qua? Venite qua? Uno, due, tre. Boom. Qua deve più di cattiveria. Oh, e quando mi ingasso, mi ingasso io. Eh, madonna. Raga, che mi dà il medikit? Tu vuoi avere un medikit? Io ho due medikit. No, no. C'è uno qua. Stanno qua per te. Dattanguilli, c'è uno qua. Eh, madonna. Pure quelli, ma ci metti. Eh, vicciotto, qui ci stanno dei medikit. Così, vai. Non posso, non posso prendere. Oh. Quando io usci lì. No, no, no. Venite, raga. Venite, venite, raga. Venite, porca puttana. Venite. Ma anch'io ce l'ho venuta. Oh, vieni, cane. Vabbè, noi lasciamo Vito la finitura. Andate, andate, andate. Aspetta, aspetta, aspetta. Sono due, veloce. Andate. Veloce, Simo. Cane, porco. E c'è... Invenito. Vabbè... No. Vabbè, inizia la volante. Vabbè, inizia la volante. Vabbè, inizia la volante. Uè, che bel mantello che ha. Guarda lì sotto. Raga, chi ha razzi? Chi ha razzi? Due. Zero. Ah, Simo. Qual mi può fare per te? Ah, thank you. Thank you. Fabio. Cazzo vuoi? Ok, grazie. Tieni da me. Oh, porca madonna. Hai presi? Sì, sì. All'ultimo. Raga, chi vuole zompare in safe? Io. Zompare. Io. Eh, madonna. Aspetta, prima. Okay. Ma... Sì. Ma... Sì. Sì. Ma... Ma... Oh, no. Oddio, raga, pudoro! No. No, no. No. No, no. No, no. Venite da me, venditura Vieni da The Punisher Simo, vieni, Simo Eccomi Venite, raga, da me Oscar Veloce Veloce, vieni Simo Si vola 130 Particari Voglio andare sulla montagna Raga, dovete andare Qua, qua Ma perché Vabbè Simo, quanti anni hai? 12 se non l'agrassi Allora Pure io 12 Fai la prima media Seconda Uh, cosa ho trovato Perché devo laggare Ma tu La Switch Ce l'hai collegata Al televisore Vedi che No, la Switch Non si Cioè, non penso Sì Lo so Ma Fabio Lisco Non ce l'ha collegata Raga, basta che dopo Mi date i colpi I colpi Raga Eto de copra Hier Raga Ils EU F participate Un Oh manchiera, dove stavo laggando? No Raga dammi! È la madonna! Oh b***o! Oh manchiera! C'è ben soyurata! Sì lo so se no Raga ho bisogno di cuore Raga colpi i razzi per favore Colpi i razzi Non ne ho Raga avete colpi i razzi? 12 Me ne dai Lasciate Prossimo li prendo Ho 67 kg ai nostri Io ho 67 Io ho 67 Lasciatemi i colpi i razzi raga Colpi i razzi raga No ne ho lasciati 12 Sì sì abbiamo gente davanti qua Ricaricate tutto Oh ce ne sono noi Raga prendete questi Raga prendete questi Abbiamo gente davanti raga A uno gli ho fatto 55 A uno gli ho fatto 55 Ma sono neanche preso Sì gli ho fatto 55 con la scala O Ma che è stato qui? Chi è stato qui? Dai 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 Ci sono sti i nobi Oh, madonna, troppo Ma chi è stato quello da... Oh, bellissima Oh, questo è una scherzata 26, 27, ho messo uno bianco Vito, vuoi andare? Aspetta Salta Tanto hai il coso giamperino, salta Vacci Qua Noccato Non posso, che cosa? C'ho qua la gente Pusciano Pusciano Da me, raga Ti ho cane Eh, pure da me Ovviamente a me fa una kill Guarda quanti Oh, a me dice che l'ho killato Ora ci muori, scappa, scappa 8 Giuro che non ci... Non stavo... Giuro che non stavo capendo in America Minchia Bella Grazie. Che è ufficiale Kiko? Kiko nel mondo del bambino? Ma è friando. Ma non è nulla. Che è? Boh. Oggi sta il torniocco mio. Ma non funzionano. 91 iscritti. Come si disse iscritti? Ma raga io voglio arrivare a 100 iscritti. Io sono iscritto. Ho bisogno di... Raga mi servono 9 iscritti per arrivare a 100. Grazie. 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 ma che cazzo di domande ti fai? hai capito? no la fada fa via adesso al verso prossimo si lo so vabbè comunque se verrai nelle nostre live capirai quando passa la vicina a palmetto c'è un porca puttana vabbè lo so da te? no no il loci e ci è che spara? porca puttana simo tu hai saputo? no è perché non ci sta proprio io sono in tenda sono almeno no raga sono caduto raga sono caduto e che è successo? eh sono caduto giù eh a me non mi piace molto però no lo so però no vabbè non salvo non salvo mi lucro campo da calcio e vabbè se ci sono player tali ma con calma cioè facendo tutto il giro no vabbè tanto non sa nessuno no no sono veramente le razze stanno io domani mangerò le orecchiette oh madoshka che è felice per un mondo più pulito si levi no la denuncia per stalking io io mi sentito denunzio denuncia la palestra non ce l'abbè ce l'ho fatissero il giro chi è stato a fare io io a quel spesso il giro quando finisce di farsi una bella eh una cosa si può portare le bende si ma vieni qua io non posso perché eh coglione eh vieni a me si guarda è chi no vinto se vieni da noi magari andiamo a fightare ma vaffanculo va muori ragazzi sto fightando vi dico solo questo va bene muori muori non l'avevo noi due ce ne andiamo a pinaco gli ok siamo fulltiamo raga sto scappando scappa scappati da noi ce l'ho fatta questa è italia no ci c'è che mi fa la cosa la città mi fa la cosa la città mi fa la cosa la città non sa che sono io aiuto no anche 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 kit non ci certo dc ci prendiamo appinati le obiettie di come paviva barevissima lavababba la babà bababa siamo dai cedini dammi la moda dai cedini cos'è quel pompa stai bruciato a piaccionato ah! ah! sperate come sta a costa qua oh porca madre ma che lago! ah questi bans proteggetemi eh lo è boss vito eh lo è boss simon crash oh ci stai fermo non era verso il riterra si 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 è vero zee 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 ah porca portana vuoi dire che ora faccio un 360 40 40 davanti a noi ho preso ho preso ho preso 86 pure io non è vero ho fatto il muro vai l'ho preso va l'ho preso va l'ho preso va l'ho preso vai vito pushen porco dio cane ahahah vito io non posso fare niente io non posso secondigliano no grande che fai? zitto bro levati bro fra 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 e la fai ce l'ho fatta, e uno da riso, da punch e la madonna ce l'avete fatto? e non mi spavano il tattico hai un'arma tarocca, un joystick tarocco e un xbox tarocco sei tutto taroccato signor tarocco sei un chitcher se gli servono a chi serve? tieni Vito ce ne ho io qui bravo bro tu si che sei un bravo ragazzo no no la mia metà metà verde ridammela vuoi chiedere un'altra cosa? posso dare metraglietta? un metraglione io quanto è lungo e grosso ah ah un caricatore proprio devi vederlo tanto gente ci foussa cazzo la vita? dove? a dove Vito? venite da me! io ho fatto cazzo mio muori 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 vediamo le cose qui in quanto siamo forti visto noi siamo forti ma stanno cerchiando no no ma io lago è che lago non è che lago si si l'ho killato eh si lago vito vuole fare il pro che non è a costruire vito sta un'altra gente attendo l'hai sentita perché vuole volare con lo scarro buono lo scarro dammi lo scarro oh bevi vito lo si ma si ma si ma hai visto questo io mi togliamo mi togliamo vito vedi come vito nocato il lato c'è gente che ci spara madonna è fantastico le vanta a noi bianco bravo cazzo è vero sta la safe però vai vai vito vai sali simon non laggare vai vito puoi passare un po c'è lanciare a girare munizione c'è un altro fatto hai dato munizione stavano volando ti ricordi quella ciclinata in volo che ho dato davanti a noi forse fabio sessanta no da qui eccolo da me sta eh infatti venga lanciare a te quadro però rendi utile porca madonna qui lato qui lato qui lato barret vitt 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 copri aiuto aiuto nooo mi ha preso il no scuff vitt 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 che pesante se lo hai che devo fare no 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 io tu che pompa il tattico vai il scelini prendi me il tattico raga il tattico tieni veloce prendi dammi il tattico e prendi questi vitt cazzo qua sono pompa si si stiamo venendo vittor di grasse ce l'ho andato perchè sei tu che ho dato il pompa si ma io non ti ho detto che non abbiamo messo il timbo non proprio metà timbo ma vabbè io sei chi io tre io tre comunque ma il merito è un tutto di vita perchè se se lui che ci ha caperto di fronte raga io le ho saltato io le ho saltato vittor ce l'abbiamo di fronte non ci vorrei dire io le ho saltato dietro io le ho saltato dietro ahhh ma pure io sono dietro da me da me ma che costo lanciarazzi io le ho saltato capito ti ha ascerrato un mostro a te eh vabbè però No, 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 no. No, 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 no ho fame, ho fame eh sì vabbè sì, ciò, ciò non u no eee ah ok ok sì, sì dopo vi va di fare una parco cosa dopo vi va di fare una parco no io non gioco a parco in live poi non per avanzarmi ma vabbè vitto te l'ho detto prima però è si dillo dillo stavi dicendo sei più forte che noi due che dillo tanto mica si offende che cazzo andiamo secondo me parco giochi l'hanno dedicato al parco pacifico ma secondo me è una gran cazzata che poi il parco giochi è utile soltanto quando esce un aggiornamento per trovare l'arma brah io poi lo faccio pure qua su mai ma non mi capita o qualche volta lo faccio ma devi fare uno meno quanto un bm capita lo fai può scattare ah no ha visto poi ti devo raccontare un fatto che madonna le risate a scuola oggi non te la racconto eh no ma se sto in live e me che fa no ah infatti no c'è poi io ho pure quelli della classe che mi seguono quindi ah vabbè io dico oggi in realtà dovevamo fare due ore di inglese perché una all'ora alla prima e alla quarta praticamente io dico e lui Pietro dice sii e io dico Pietro ma da quando ti piace l'inglese? e lui dice da quest'anno ma da ma da io non ci dico quello che stavo per dire no non dirmelo oh ma sei una mamma zoccola hanno lanciato la granata a sti figli e bocchino vitto sta arrivando oh porca puttana dovevamo fare io vado io spoilerato una volta di tabra sti figli e bocchino e la profa dovevamo porca puttana troia 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 tre volte pure scudato che falle quali per me fanatic ninja dei poveri ciao via vai porco dio vai italiano si grazie si si è una ritorno c'è l'ultimo spaventamento 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 calci Raga, io dopo questa spengo Ok Ok Domani c'è andata a scuola lì? Eh, sì Io posso, no Io no, perché sciopero Anche a te Pure a noi dovrebbe essere sciopero Sì, ma non aderisce nessuno, stati tranquilli Ci pensi domani mattina andiamo e hanno aderito Hanno tutta la scuola per sciopero Da noi non è mai sciopero Se domani magari aderiscono Faccio salto di gioia dentro il bagno Da noi in 5 anni non abbiamo mai fatto un sciopero Io stavo a dire comunque prima Che c'era religione e ci ha fatto vedere il tuo quarto E io ho spolerato E se non c'erava dopo E qui mi voleva portare da preside Solo perché ho spolerato Eh vabbè E se allora vieni la nostra classe che... Ah, dai, io rimaccio Tu hai spolerato E allora vieni la nostra classe Che sta morendo? Che sta morendo? Porca madonna troia troia Fabio 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 è morto Ma perché di... Prova ad arrivare Beh viziongola non c'è il 5 Pietro sta a lutare Quell'altro sta... Simo sta venendo Simo vieni nel benzinaio che mi curia No, guarda Mi sto facendo quello Possibilmente un'arma O un piccone come arma E io se lo... Se lo arrivo e basta Tu vuoi ti posso dare i due scutini? Ma vabbè Mi fa bene Mi aspettano te L'altra shield Pietro mi puoi dare la... La pistola che non ha armi? Fabio si vieni da mettervi un'arma Grazie Arrivo Guerro E un hack Quello che va Quello già Ce l'hai la paletta? Dopo vi sali... Eh sì vabbè no niente Fabio si vieni da mettervi... Un... Zitto stai zitto stai zitto Noccato Ah addio madonna Una poca vita Buono Guarda te Do stai a morire? Eeeh Ho delle armi Vabbè Una l'hai uccisa Ma che culo Da dietro In due Venite qua sotto Venite così Io vi ho lasciato un bolt Perché? No raga Io non ho materiali porca madonna Porca madonna Ragazzi no 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 Io stavo girando nero è davvero il posto riesco è la bella non si muore vabbè io concludo la live bella raga